Salve, sì, sono tornato e oggi parleremo di una cosa che mi ha dato davvero tanto fastidio, soprattutto quando l'ho scoperto, perché, fondamentalmente, come possiamo dire, YouTube fa due pesi e due misure. Salve a tutti e bentornati. Sì, lo so, è da un po' che non mi vedete, ma sono stato fuori per lavoro. Poi ho voluto passare una settimana a settarmi, perché, come sapete e come avete visto dagli ultimi video caricati, sto facendo svariate live su Twitch. E in tutto questo periodo, ma anche poco prima, se ricordate anche l'ultimo video che ho caricato direttamente per YouTube, c'è una questione che ho scoperto e che oggi vi voglio parlare e dimostrare. In particolar modo di cosa sto parlando? Ricordate quando vi ho detto che c'era un mio video che era praticamente in bassissima qualità? Eppure io ho ripreso sempre con ottime lenti, sempre con la stessa camera, ma ci sono alcuni video che mi risultavano in qualità migliore, altri video che mi risultavano in qualità estremamente più bassa. Oggi vi spiego qual è il vero problema e lo vedremo direttamente dal mio canale, direttamente sullo schermo. Bene, come vedete adesso siamo sul mio desktop, qui ho tutti i programmi, ma il video di cui voglio parlare è qui, nella mia cartella di esportazioni dei video YouTube. Come vedete ci sono alcuni degli ultimi video che ho postato, acquistare un drone come fare, ho parlato del Canon SR5, un lavoretto che ho fatto, e poi c'è questo che è il video di cui volevo parlare. Come non dovrebbe volare un drone? È un video che è uscito ormai circa un mesetto e mezzo fa? Poco di più? Comunque, questo è fondamentalmente il video dove io parlavo della mia brutta esperienza col drone quando mi si è rotta l'ali in volo. Se vado ad aprire il mio account YouTube possiamo vedere insieme il video che è stato postato. Quindi andrò sul mio canale, andremo a vedere tra le ultime riprese che ho fatto e andremo a vedere proprio il video di cui vi sto parlando. Ora, il problema di questo video è che in molti mi hanno detto in privato Sai Alessandro, ho visto il tuo video, però non mi è piaciuto perché è completamente fuori fuoco. È completamente, totalmente fuori fuoco. Come è possibile? Cioè, assolutamente a fuoco, sono certo, l'ho visto e esportato, l'ho caricato, ho inserito tutto quello che devo inserire nelle impostazioni di YouTube, vado ad aprire il file e mi ritrovo con questa immagine. Ora, per voi che avete visto il video, probabilmente questo è quello che avete visto, ma io che ho fatto il montaggio non ho visto questa immagine così poco definita. Questa è l'esportazione che vi porto anche in questo caso a un minuto e uno per avere la stessa identica ripresa e come vedete la qualità è completamente differente. A me questa cosa non è piaciuta molto perché io utilizzo comunque sempre la stessa camera da tempo e mi sembra assurdo che di punto in bianco le riprese prima erano ben definite e di colpo non lo sono state più. però se vado a vedere qui per esempio il dettaglio del colletto come vedete qui il colletto è completamente come fosse sfocato, come fosse stato girato in una qualità bassissima ma questa è la stessa ripresa anzi, qui il riguadro è anche più piccolo quindi è ancora più compresso ma il colletto posso andare ad allargare non è fuori fuoco ma è molto più dettagliato. A questo punto mi sono iniziato a fare qualche domanda ho iniziato a girare anche su internet per vedere quale fosse il problema e ho notato una cosa andiamo a prendere uno dei video più visualizzati per esempio questo dell'astrofotografia è un video ormai di 4 anni fa 2016 andiamo in un punto qualunque del video e come vedete l'immagine è più definita rispetto a questo video e che cosa è cambiato? la camera è la stessa? l'obiettivo è lo stesso? anzi, all'epoca qualche volta usavo anche le OSM con un obiettivo leggermente più morbido mi sembra strano che questo risulti più dettagliato rispetto a questa ripresa e ho scoperto che in realtà YouTube definisce i video in maniera differente e le differenze sono fondamentalmente su due sezioni la prima, quello che andiamo a vedere adesso è sul numero di visualizzazioni questo è un video del 2016 questo è un video del 2018 in questo caso ho solo 43 visualizzazioni in questo caso 18.700 se io faccio il tasto destro e vado su statistica per nerd potete vedere tutti i dati che riguardano la mia ripresa la ripresa è stata riportata in 1920x1080 a 24 frame al secondo dopo che ci sono una serie di parametri che riguardano la ripresa la connessione e tutte altre cose che in questo momento non ci interessano ma sono andato a vedere una cosa importante il codec utilizzato il codec utilizzato è il codec AVC però se vado a prendere quest'altro video molto più vecchio e vado bene la statistica il codec è completamente differente infatti in questo caso è stato usato un codec VP9 anzi VP09 e la cosa che io non capisco è perché si è cambiato perché fondamentalmente YouTube prende i video e in base alle visualizzazioni o in base a un altro parametro come ne andremo a vedere anche dopo fondamentalmente cambia codec se si hanno tante visualizzazioni utilizza questa tipologia di codec che è un codec molto meno compresso per cui in questo caso sempre una camicia c'è molta più definizione ora cerchiamo un frame dove sono più preciso più a fuoco io vedo tutti i dettagli di questa camicia mentre invece qui con una compressione un codec in AVC praticamente tutti questi dettagli vanno a sparire allora ho deciso di indagare ancora di più e ho scoperto che in realtà la differenza non viene fatta esclusivamente sul numero di visualizzazioni ma anche su come viene esportato il video perché se io vado a chiudere questi due video io all'interno del mio account come video non pubblicati ho caricato proprio ieri sera lo stesso identico video e nuovamente ho caricato il video che riguarda il drone provate ad aprire in due video differenti andiamo a prendere un frame a 2.02 anzi no voglio prenderne uno casalingo in 2.28 2.28 adesso mettiamoli uno da un lato e uno dall'altro uno qui a destra e l'altro qui a sinistra stiamo guardando lo stesso identico frame in questo momento però come potete vedere sono due titoli basati sulla tipologia di esportazione in questo caso che è come il video che vi ho mostrato prima la definizione è molto più bassa sembra che io sia completamente fuori fuoco nell'altro video il dettaglio è completamente ripreso la gradazione della pelle non è più per esempio questa parte in ombra compatta come da questa parte è molto più gradata riesco a vedere i dettagli della mia pelle qui sulla mia fronte dove c'è questa lieve parte un po' più illuminata dato che ho il faretto qui sopra e cosa è cambiato fra questo e questo? fondamentalmente quello che è cambiato è il formato con cui ho asportato perché il video è lo stesso tutti e due sono stati esportati in 1920 e 1080 anzi sono stati girati in 1920 per 1080 è assolutamente lo stesso video ma se andiamo a vedere le statistiche per nerd questo è in avc e questo invece è in wp l'unica cosa che cambia come avrete già notato dai numeri è che in questo caso la mia esportazione l'ho effettuata così come era il video 1920 per 1080 a 24 fps nella seconda esportazione ho esportato in una qualità maggiore ho esportato in 2k quindi in 2560 per 1440 ha lo stesso framerate perché è lo stesso identico video infatti qui posso tranquillamente aprire premiere con un altro video che ho girato e vi posso mostrare questo in questo caso è il video che riguarda il microfono e il video è in vediamo nelle proprietà 1920 per 1080 a 23,976 che è il framerate che sto utilizzando anche adesso che ho utilizzato all'epoca del video quello che ho fatto vedere prima riguardante l'astrofotografia ma che è anche la stessa identica camera lente e tipologia di esportazione che ho fatto per questi due video quindi la differenza fra l'uno e l'altro è che youtube non prende come esempio esclusivamente il numero di visualizzazioni ma anche il formato con cui noi andiamo ad esportare ho voluto approfondire questo problema e sono andato a scoprire anche un'altra cosa e qui mi sono esportato questo fotogramma questi sono i criteri con cui fondamentalmente youtube decide l'encoding dei nostri video ovvero tu hai un video hai un video in 1080p ed è girato come nel nostro caso in 24 frame al secondo quindi andiamo a vedere nel nostro schema io ho girato in 1080p a 24 25 è praticamente la stessa cosa quindi non vi preoccupate non mi tocca avere il VP9 come tipologia di codec se invece avessi girato in 1080p a 60 fps in quel caso il mio video sarebbe stato più dettagliato perché il codec utilizzato per la lettura del mio file sarebbe stato il VP9 a questo punto per me sorgeva un problema ovvero la mia camera non gira in 1080p 60 fps e io non posso utilizzare un frame rate che generalmente utilizzo per gli slow motion per girare un intero video mi sembra una cosa abbastanza stupida a questo punto che cosa ho fatto ho preso il mio filmato in 1080p e gli ho detto va bene programma esportamelo però in 2560 per 1440 perché come potete vedere il 1440p che sarebbe il 2k e mezzo se non sbaglio a 25 fps come vedete c'è la spunta verde fondamentalmente mi viene tranquillamente incodato e quindi ho utilizzato il codec VP9 quindi la soluzione era fondamentalmente prendere il mio video e esportarlo in un formato più grande ovviamente avrei potuto esportarlo anche in 4k il problema è che se prendi un 1080p e lo esporti in 4k si creano tanti artefizi grafici tante problematiche perché ovviamente prendere un video e allargarlo eccessivamente non è proprio il massimo il 2,7k 2,5k a me va benissimo quindi ho deciso che da oggi in poi tutti i video che io andrò a girare ed esportare li esporterò in questo formato infatti se io prendo qui e vado a fare ctrl m per l'esportazione quello che ho fatto è stato crearmi un mio predefinito 2k youtube VP09 quindi il mio video che è stato girato in 1920x1080 come potete vedere in questa sezione qua che questa è la sorgente verrà esportato in 2560x1440 e infatti questo video che per la precisione così possiamo anche dare una conclusione allegra almeno a questo video questo video di cui vi sto parlando che vi ho fatto vedere sul sul programma è questo qui il video che riguarda appunto il microfono che ho comprato per streamare su twitch e come potete vedere adesso prendiamo la frontale l'immagine è nuovamente dettagliata come potete vedere si vede tutto il dettaglio della mia barba della felpa qui ho un minimo di front focus da parte della camera ho usato le osm come per questo video quindi non è precisissimo il fuoco sul mio volto vediamo se trovo un punto dove è perfettamente a fuoco la mia faccia non c'è un punto precisissimo anche perché questo è stato girato con un adattatore da FM a F con un 163528 comunque io posso già apprezzare molto di più il dettaglio di questa scena perché perché il codice utilizzato è il vp09 questo video è stato sì lo so molto breve e soprattutto questo video lo monterò su twitch quindi questa parte sarà molto divertente da montare perché io starò facendolo live e in contemporanea monterò precisamente questa parte dove sto parlando spero ovviamente che il video vi sia stato utile soprattutto per tutti quelli che stanno caricando materiale su youtube perché non sono l'unico a aver riscontrato questo problema ma in tantissimi anche gente con cui ho parlato che carica abitualmente dei propri video su youtube mi chiedeva perché se io esporto con un'ottima camera con un'ottima lente ma in 1080p ho questo problema che tutto è poco definito ebbene questo è il problema io ovviamente con questo concludo il video mi raccomando scrivetemi qui sotto nei commenti se sapevate di questa cosa e se sapevate anche quale fosse la risoluzione per questo problema o se avevate trovato un altro sistema oltre a commentare ovviamente ricordatevi di iscrivervi premere sulla campanella così che ogni volta che uscirà un nuovo video sarete avvertiti e avvisati ma soprattutto qui sotto troverete i link oltre che al mio account instagram e al mio account vimeo anche all'account twitch col quale praticamente sto streamando tutti i giorni dalle 19 alle 20 più sto iniziando a pensare di fare qualche live mattutina visto questo possiamo definirlo mini lockdown zona rossa perché sì sono in zona rossa e quindi non ho molta possibilità di uscire e scattare foto quindi principalmente quello che farò è fare qualche live in più su twitch sperando che vi piaccia iscrivetevi quindi anche su twitch è assolutamente gratuito e non resta che dirci al prossimo video ciao